Eccoci qui l'elicottero che sorvola sopra l'altare della patria e controlla piazza Venezia tra pochi minuti o poche ore forse passerà di nuovo il presidente degli Stati Uniti d'America lì vediamo il cameraman credo che sia Rai o Mediaset appostato su un baldacchino al centro della piazza per riprendere al meglio il passaggio del presidente che sembra che ancora, ora sono le ore 14 circa e si trova ancora al Quirinale sono le 14.37 però dovrebbe regarsi adesso anche a Villa Madama a trovare il presidente del Consiglio dopo aver incontrato il Papa e aver detto di essere un suo ammiratore Obama è sembrato quasi in soggezione secondo alcune testimonianze di fronte al massimo pontefice cattolico appunto dovrebbe passare tra poco ma vediamo se forse sono proprio loro vediamo ci spostiamo a questo punto, ci mettiamo in una posizione migliore non crediamo, non credo che sia loro, non credo, no 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 c'è grande tensione, grande confusione, ci sono mitragliatori dietro alle auto del corteo insomma una cosa di, diciamo come si può dire, hollywoodiana quasi abbiamo visto delle scene che si vedono nei film e appunto qui siamo all'altare della patria, tra poco potrebbe passare dopo aver incontrato Renzi a Villa Madama il presidente per andare al Colosseo quindi per il momento sono le ore 15 meno 15, le 14.46 e questo è poi il punto della situazione a dopo per un altro aggiornamento grazie